Presentiamo oggi una soluzione estremamente innovativa a frutto dello studio dei nostri ricercatori con la quale è possibile ripristinare tratti di rete idrica senza scavo. In pratica non viene più sostituita la tubazione in caso di perdita, generando scavi estremamente onerosi e che interferiscono alla vita dei cittadini, ma tramite un liquido appositamente studiato e spruzzato all'interno della tubazione si ripristina, una volta che questo liquido si è solidificato, la vecchia tubazione di fatto costruendo un tubo nel tubo. L'applicazione viene garantita per oltre 50 anni ed è stata messa a punto dopo innumerevoli anni di sperimentazione ed è approvata dal Ministero della Salute. Ci auguriamo che questa nuova tecnologia possa contribuire al benessere dei cittadini e soprattutto possa contribuire promuovendo un risparmio alle aziende che si occupano di manutenzione e gestione acque che non sono più soggette ai costi degli scavi e dei ripristini. Grazie. Grazie.